Lei è Taylor Shaw Business e da come potete vedere è completamente impassibile di fronte a quello che ha commesso, tanto che è stata vista ridere di fronte alla telecamera durante il suo processo. Ma questo dettaglio inquietante, credetemi, è solo la punta dell'iceberg di questo caso. I comportamenti di Taylor nei vari anni sono delle enormi bandierine rosse e quello di cui parleremo in questo video ha scioccato un'intera nazione. Ciao a tutti amici e benvenuti a Giada Crime. Se vi piacciono le storie di True Crime, beh, siete nel posto giusto, quindi vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Oggi vi racconto la scioccante storia di Taylor Shaw Business. Per il caso di oggi amici ci troviamo in Wisconsin, che è conosciuto anche come lo stato del tasso del miele e con una popolazione di poco meno di 6 milioni di abitanti è il ventesimo stato più popolato d'America. Il caso di oggi però si svolge nella città di Green Bay, che nasce come un posto di scambio, principalmente per le rotte commerciali più lunghe e ad oggi ci vivono poco più di 100.000 abitanti. Green Bay è una città ricca di musei e di attività da svolgere e qui ci vive un ragazzo di nome Shad Tyrion. Shad nasce il 7 settembre del 1997 da sua madre Tara Pakanich e suo padre Michael Tyrion ed ha anche due sorelle ed un fratello. Dopo aver frequentato la Bayport High School, Shad decide di lavorare con suo padre e suo nonno nell'attività di famiglia. Parallelamente però al suo lavoro, cioè quello nell'attività di famiglia, Shad è un bravissimo artista, specializzato nella scultura del legno. Amici e familiari lo descrivono come un ragazzo gentile e buono con tutti. Amante della natura e un grande appassionato d'arte che apprezza trascorrere il suo tempo libero con le persone a cui tiene particolarmente. Purtroppo sulla vita di Shad non ci sono molte informazioni su internet, ma non sa che avrebbe presto incontrato qualcuno che gli avrebbe distrutto la sua vita per sempre. E questa persona è una donna di nome Taylor Coronado, conosciuta come Taylor Shabisness. Ma ora amici, chi è Taylor e soprattutto come è entrata a far parte della vita di Shad? Nata a Chicago il 23 novembre del 1997, Taylor Shabisness nasce da Marla e Arturo. Purtroppo la storia familiare di Taylor è segnata da un passato molto turbolento. Sua madre Marla muore a causa di una cirrosi epatica data dalla sua dipendenza da alcol quando Taylor ha appena 12 anni, lasciandola sola con suo padre e suo fratello. Durante i primi anni del liceo i professori parlano con il padre della ragazza e dicono di essere estremamente preoccupati per la sua salute mentale e pare che effettivamente in un certo periodo della sua vita Taylor sia stata seguita da degli specialisti. Ma a quanto pare questo non ha affatto migliorato la situazione perché nell'ultimo anno di liceo è stata espulsa per aver causato una rissa e alla fine non si è diplomata, quindi non ha mai concluso il suo percorso di studi. Intorno a questo periodo Taylor si trasferisce in Texas dai suoi nonni una decisione che probabilmente secondo la sua famiglia avrebbe potuto aiutarla. Il padre di Taylor tra l'altro quando lei si trasferisce dai nonni quindi nello stesso periodo viene accusato di abusi domestici e nel 2017 viene condannato a 12 anni di prigione per aggressione di secondo grado nei confronti di un minore. Non sappiamo ora amici per certo se Taylor abbia subito abusi da parte di tutta la sua famiglia durante la sua infanzia ma sicuramente possiamo immaginare da quello che sappiamo che probabilmente non ha proprio vissuto un'infanzia spensierata. E questo non è l'unico poi duro colpo che Taylor subisce nella sua vita perché nel 2022 suo fratello muore in un incidente in moto e questo l'ha talmente devastata tanto da essere ricoverata più volte in una struttura psichiatrica e anche se suo padre si trova ancora ad oggi in carcere è estremamente preoccupato per la sua salute fisica e mentale. Ora come vi ho detto Taylor è conosciuta da tutti come Taylor Shaw Business Questo perché nel 2018 sposa un uomo di nome Warren Chabot e dopo il matrimonio entrambi cambiano legalmente il loro cognome in Shaw Business anche se effettivamente non è chiaro il perché. Comunque Taylor legalmente conosciuta come Taylor Denise Shaw Business si trasferisce in varie città del Texas prima di stabilirsi definitivamente in Wisconsin. Nel tempo libero crea bijoux con le perline e prova in tutti i modi a rendere questo suo hobby il suo lavoro tanto da aprire una pagina GoFundMe chiedendo donazioni per poter far crescere la sua piccola attività. Ma amici come vi ho detto la vita per Taylor non è tutta rose e fiori e infatti nel giugno del 2020 viene arrestata con l'accusa di aggressione minacce e resistenza al pubblico ufficiale. Nel 2021 lei e Warren, cioè suo marito, hanno un figlio insieme ma poco dopo la nascita del piccolo Warren viene arrestato per associazione a delinquere e traffico di metanfetamine e viene condannato a 28 mesi di prigione. Nel frattempo Taylor, condannata a tre anni di libertà vigilata e 60 giorni di prigione per quello che ha commesso nel 2020 viene arrestata di nuovo per resistenza a pubblico ufficiale fuga da un ufficiale con un veicolo e possesso di strumenti per la produzione di sostanze. Nonostante la violazione della libertà vigilata, Taylor non riceve altri anni di prigione ma dovrà scontare altri due anni di libertà vigilata e questo purtroppo rappresenta un enorme problema ricorrente nei casi americani dove, diciamo così no, la troppa clemenza nei confronti dei criminali che spesso per questi reati vengono solo condannati a scontare qualche anno di libertà vigilata ha portato a tragiche conseguenze. Taylor, vista la sua dipendenza da sostanze, viene accolta da una comunità di Green Bay e nonostante è riuscita a non avere più problemi con le forze dell'ordine continua però ad abusare di sostanze ed è amici a questo punto della nostra storia e subito dopo che suo marito viene condannato per traffico di sostanze che Taylor incontra Shad Shad e Taylor sembrano condividere gli stessi interessi e iniziano a trascorrere la maggior parte del tempo insieme probabilmente per questo motivo, dopo aver iniziato a fare uso di sostanze insieme iniziano anche ad avere una relazione sì, hanno una relazione anche se lei è ancora sposata e il suo marito è in carcere. devo dirvi però a proposito di questa loro relazione che alcuni articoli colletto dicono che mentre Shad sostiene di essere innamorato di Taylor e desidera un giorno poter avere una famiglia insieme Taylor non considera la loro relazione allo stesso modo e ripeto, a parte essere tecnicamente sposata con Warren e avere un figlio con lui Taylor considera la sua relazione con Shad come nient'altro che una breve avventura ma amici, anche Shad ha più o meno gli stessi problemi di Taylor con la legge il 22 ottobre del 2021 infatti viene arrestato per condotta disordinata e resistenza ad un ufficiale ma purtroppo non sappiamo di più su questo fatto e così purtroppo arriviamo al 22 febbraio del 2022 è una giornata molto fredda ed ha nevicato tantissimo durante il giorno Taylor e un suo amico danno un passaggio a Shad con il loro furgone e tutti insieme vanno a casa di Taylor che si trova a Eastman Avenue come fanno di solito fumano qualche sigaretta prima di passare a sostanze più pesanti come le metanfetamine poco dopo però questo amico di Taylor decide di tornare a casa lasciando quindi lei e Shad da soli i due a quel punto decidono di iniettarsi del trazodone un farmaco da prescrizione utilizzato per trattare l'ansia e la depressione ma nonostante sono pesantemente sotto l'influenza di diverse sostanze decidono comunque di guidare fino alla casa della madre di Shad per trascorrere del tempo nel seminterrato e mentre sono lì consumano di nuovo insieme tantissimi altri stupefacenti ora la metanfetamina per chi non lo sapesse è uno stimolante estremamente potente che aumenta rapidamente la dopamina nel cervello e chi ne fa uso si sente imbattibile, invincibile è importante capire proprio per comprendere le dinamiche di questa storia che le persone che ne fanno uso possono passare da un comportamento apparentemente normalissimo fino ad uno totalmente irriconoscibile l'abuso ripetuto di metanfetamine può anche indurre attacchi spontanei di ansia manie, paranoia e persino allucinazioni tornando alla nostra storia, poco dopo le 21.30 la madre di Shad, Tara, esce di casa sapendo che suo figlio in quel momento si trova in compagnia della sua amica Taylor ma non sa veramente quello che sta accadendo nel seminterrato tornata a casa sente solo la voce di Taylor mentre consumano ancora più stimolanti e Tara non pensa però che stiano facendo uso di sostanze ma semplicemente che come fanno tutti gli amici si stiano semplicemente divertendo i due ragazzi continuano per ore a fare uso di sostanze e a un certo punto Taylor e Shad decidono di praticare il BDSM ma Taylor porta le cose troppo oltre ignorando tutti i segnali di resistenza di Shad e coinvolta in quella che è un'euforia violenta decide di soffocare il ragazzo nonostante il sangue dalla bocca di Shad Taylor vuole vedere cosa sarebbe successo e purtroppo non si ferma ed è in questo momento che Shad emette il suo ultimo respiro ma amici purtroppo Taylor ancora una volta non si ferma qui perché dopo la morte di Shad lei continua ad usare il corpo del ragazzo in un modo che è meglio non descrivere a quanto pare la madre di Shad cioè Tara e il suo compagno non si accolgono di nulla perché non sono in casa e non passano nemmeno la notte a casa loro sanno però semplicemente che Shad è a casa con una sua amica e che si stanno divertendo e quindi effettivamente non si preoccupano durante però le prime ore del mattino Taylor è ancora a casa di Shad sale le scale, va in cucina a prendere dei coltelli e smembra il corpo del ragazzo e poi scappa dal seminterrato con una delle gambe di Shad inizialmente il piano di Taylor è quello di portare tutti i resti del ragazzo a casa sua ma ovviamente in uno stato così delirante dimentica il resto del suo corpo portando con sé in una busta solo un arto verso le due del mattino la madre di Shad torna a casa con il suo compagno e dopo aver salito le scale dove si trova la loro camera da letto si addormentano tranquillamente ma intorno alle tre del mattino Tara viene svegliata dal rumore di una porta sbattuta pesantemente e non solo perché sente anche un veicolo allontanarsi e pensa che sia Taylor che semplicemente abbia deciso di tornarsela a casa in quel momento Tara che per diverso tempo non ha visto suo figlio scende per vedere se Shad sia andato via con lei oppure sia rimasto lì nel seminterrato di casa nonostante la donna purtroppo conosce in parte Taylor e probabilmente è a conoscenza quindi sa anche dei comportamenti violenti come credo però ogni madre ci tiene a suo figlio nonostante come sappiamo la compagnia poco raccomandabile e quindi Tara vuole dargli la buonanotte e controllare di persona che fosse tutto ok prima di tornare a dormire si dirige verso la porta del seminterrato e dopo essere arrivata in fondo alle scale nota una luce accesa attraverso la porta che in quel momento è ancora chiusa apparentemente niente sembra fuori posto ma girandosi per tornare su al piano superiore nota un secchio fuori posto sul suo pavimento coperto casualmente da un asciugamano essendo lei principalmente a gestire la casa Tara tra se e se si lamenta perché quel secchio non è ovviamente al suo posto e l'asciugamano di certo sopra non ce l'ha messo lei avvicinandosi al secchio toglie l'asciugamano per vedere cosa ci sia al suo interno e in quel momento scopre la testa mozzata di suo figlio e urla dal seminterrato chiedendo al suo compagno di chiamare immediatamente il 911 non è Who's head is it? How old is it? 24, 25 Missing or? No, he was here yesterday with some chick and then now all of a sudden nobody's here And you said you went down there, correct? Yeah, and I looked at her tall but I can't see very well and I can't know what the hell it is So there's something in the bucket? Do you think she's hallucinating or do you think that... I don't think so. I went down and there's something in the damn bucket. I can't, I don't know, man. She's a little freak dog and kind of freaking ill. Hello? Hi Tara, so can you tell me what's going on? Pretty positive my body's head is in a bucket. My own bucket, my own bucket. What makes you think that? Because I looked in a bucket. And what did you see? That's what I told you. Okay, where's the rest of the body at? No idea. Una scena macabra, come possiamo immaginare, si presenta di fronte agli occhi degli agenti una volta arrivati sul posto. A parte il secchio, accanto al materasso del seminterrato c'è sangue ovunque. Gli agenti trovano anche organi genitali maschili mozzati accanto a due coltelli. Mentre altri poliziotti ispezionano la scena del crimine, altri ancora sono impegnati nella ricerca di Taylor. Il primo luogo in cui cercano è il suo indirizzo di residenza registrato, dove trovano il suo veicolo parcheggiato lì fuori. Un dettaglio però preoccupante lasciato dietro di sé è la presenza di sangue davanti all'appartamento insieme ad un sacco di impronte di sangue. Mentre gli agenti cominciano a indagare sulla scena, Taylor esce dal suo appartamento con una maglietta chiaramente macchiata di sangue e segni rossi sulle mani, che pare chiaramente del sangue che si sta seccando dopo diverse ore. E sembra completamente indifferente quando gli agenti le si avvicinano. La polizia arresta finalmente Taylor, mentre altri ancora entrano nel suo appartamento alla ricerca di prove e altri detective ancora hanno trovato il suo furgone e quando finalmente riescono ad aprirlo trovano una gamba di Shad all'interno di una scatola di cartone. Di fronte a questa macabra scoperta, Taylor è stata immediatamente arrestata e portata in centrale per un interrogatorio formale. Mentre si trova nella sala degli interrogatori, i detective notano dettagli sul pollice e sul dorso della mano, insieme a molti graffi su braccia e mani. Mentre parla con i detective, la donna rivela tutti i dettagli disturbanti delle atrocità commesse su Shad e lo fa in un modo come se fosse tutto estremamente divertente. Allora, questo interrogatorio, amici, è veramente troppo esplicito e Taylor ride in varie parti aggiungendo che la testa di Shad è la prima cosa che ha tolto e che è estremamente eccitata alla sola idea di abusare del suo corpo senza vita. Pare poi addirittura che le piaccia provocare, dicendo che sicuramente la polizia si sarebbe divertita a cercare tutti gli organi. E dopo tutte queste informazioni estremamente disturbanti, Taylor è stata trattenuta in custodia con una cauzione di ben 2 milioni di dollari, mentre gli investigatori raccolgono tutte le prove da portare al processo. A maggio del 2022 è stata inizialmente ritenuta in grado di intendere volere e di sostenere un processo, ma nel settembre dello stesso anno Taylor Shab Business ha cambiato la sua dichiarazione in non colpevole per infermità mentale, portando quindi ad ulteriori valutazioni psicologiche. Ma di nuovo nel novembre del 2022 è stata ritenuta in grado di sostenere un processo. Durante quindi il processo la difesa di Taylor ha cercato di giustificare le sue dichiarazioni, sostenendo che quel giorno, cioè quello dell'omicidio di Shad, aveva fatto un uso massiccio di metanfetamine. Hanno quindi chiesto di escludere tutti i commenti fatti agli agenti durante il suo arresto e l'interrogatorio, sostenendo che potevano essere interamente frutto della sua immaginazione, visto che si trovava sotto l'effetto pesante di sostanze. Hanno anche chiesto di far cadere le accuse di violenza sessuale, sostenendo che Shad, prima di subire tutti quegli abusi da parte di Taylor, aveva già perso la vita, ma ovviamente il giudice ha respinto tutte le richieste della difesa. Ora, possiamo capire che il compito degli avvocati di Taylor sia quello di difenderla, ma molti ritengano che abbiano esagerato, soprattutto quando hanno provato in tutti i modi a screditare Shad, visto che anche lui, come Taylor, faceva uso di sostanze. Ma la cosa, amici, secondo me più grave, che tra l'altro ha indignato tutta la comunità di Green Bay, è stato quando la difesa di Taylor ha detto che moralmente non è così sbagliato aver abusato di Shad dopo la sua morte, visto che appunto ormai il ragazzo aveva già perso la vita. Ma, in ogni caso, anche se a Taylor già in passato sono stati diagnosticati dei disturbi mentali, come ad esempio il bipolarismo e una grave depressione, non sono stati presi in considerazione né dal giudice e né dalla giuria. E proprio il giudice, per cercare di capire meglio cosa sia successo quel giorno a Shad, e non solo, anche per comprendere quale fosse lo stato mentale di Taylor durante gli interrogatori, fa testimoniare gli agenti che hanno arrestato e interrogato la ragazza quel giorno. Ora, l'agente Gart Russell è l'agente che ha arrestato Taylor il giorno dell'omicidio di Shad nel suo appartamento, e ha detto che la donna quel giorno ha avuto un atteggiamento calmo e non gli pare che avesse assunto delle sostanze. Anzi, non si è nemmeno preoccupata di rimuovere il sangue di Shad dalle sue mani, oppure di cambiarsi i vestiti. Anche se durante il suo interrogatorio è chiaro che un atteggiamento del genere fosse completamente fuori dal comune, l'agente Russell dice che secondo lui Taylor è completamente in grado di comprendere cosa avesse fatto, e non pare mostrare nessun segno di delirio mentre lui oppure gli altri colleghi quel giorno hanno parlato con lei. Il detective invece, Kevin Crump, che ha condotto l'interrogatorio, testimonia dicendo che Taylor è lucida e completamente in grado di fare una descrizione dettagliata dell'omicidio. Tutti, appunto, dettagli amici che, messi a confronto con le prove rinvenute, corrispondevano totalmente a quello che è successo quella notte. Queste due testimonianze fanno comprendere che Taylor, oltre a quanto pare essere in grado di spiegare per filo e per segno cosa è successo il giorno dell'omicidio di Shad, sembra sempre, secondo i due agenti, che avesse provato piacere e non qualche tipo di rimorso. Il dibattito sulla sanità mentale di Taylor ha prolungato tantissimo il processo e a febbraio del 2023 addirittura la donna ha picchiato il suo stesso avvocato in tribunale. Probabilmente molti credono in un ultimo tentativo di dimostrare la sua instabilità mentale e il suo ultimo processo è stato infine fissato per il 24 luglio del 2023. Durante quest'ultimo processo Taylor ha mostrato un comportamento inappropriato, sorridendo e minimizzando la gravità della situazione. La giuria ovviamente non ha provato nessun tipo di compassione, raggiungendo una sentenza di colpevolezza per le accuse di omicidio di primo grado, mutilazione di un cadavere e violenza sessuale di terzo grado. La giuria, in unanimità, ha stabilito che Taylor non ha nessun disturbo mentale in grado di interferire con la sua capacità di intendere e volere durante o dopo l'omicidio. Taylor's job business, infatti, è stata condannata a settembre del 2023 al carcere a vita senza la possibilità di libertà condizionale. Questa è stata poi la pena massima applicabile al caso di Taylor, perché dovete sapere che in Wisconsin non c'è la pena di morte. Questo caso, amici, è stato molto complesso da ricostruire, ma non solo per i dettagli scioccanti. E credo profondamente che Taylor, per evitare che possa far del male di nuovo a qualcuno, debba essere eseguita da uno specialista. visto che comunque in passato, oltre ad essere stata ricoverata tantissime volte in diverse strutture psichiatriche, le erano state anche diagnosticate diversi disturbi come, ad esempio, il bipolarismo. Anche Warren, il marito di Taylor, è stato arrestato e tra l'altro ha fatto delle dichiarazioni che non sono così assurde. In un post, infatti, su Facebook, ha detto che sua moglie potrebbe essere rinchiusa per molto tempo, se non per tutta la vita, ma spera che i tribunali capiscano che effettivamente ha bisogno di aiuto da parte dei professionisti. Ha sottolineato anche l'importanza della situazione della sua salute mentale, compreso il possibile coinvolgimento della depressione postpartum. Afferma che vuole solo che sua moglie possa avere un sostegno psicologico, perché c'è chiaramente qualcosa che non va in lei, visti tutti i suoi comportamenti. Ci sono ovviamente così tanti dettagli scioccanti e sconcertanti in questo caso, ma secondo me la persona, ovviamente da non dimenticare, è Shad. Shad, amici, aveva solo 24 anni, quando la sua vita è stata spezzata da una persona che non gli ha mai voluto bene. Era evidente che amasse molto la sua famiglia, vivendo con sua madre e lavorando con suo padre nell'azienda di famiglia. Ora, amici, io credo che, anche se siamo proiettati a giudicare la vita di un ragazzo come Shad, anche se non la trovo una cosa giusta, sul fatto che anche lui, come Taylor, facesse uso di sostanze, di certo non meritava di perdere la vita. La madre di Shad, poi Tara, visto il dolore e il fatto che, ricordiamoci, lei stessa ha trovato una parte del corpo di suo figlio, non è riuscita ad andare avanti con il suo lavoro per moltissimo tempo e sta, ovviamente, affrontando dei grossi problemi economici. Questo è un caso veramente molto triste, specialmente se penso al bambino di Taylor, che dovrà crescere senza una madre e, purtroppo, non sappiamo a chi si è stato affidato, visto che anche comunque il padre non aveva di certo una vita da persona modello. Ma, concludendo questo caso, nel profondo spero che, prima o poi, la famiglia di Shad trovi un giorno la forza per andare avanti e per trovare la pace. Grazie per aver visto questo video e mi raccomando non siate timidi, lasciatemi pure qui sotto un commento per farmi sapere la vostra. A presto, amici, e mi raccomando state assicuro, perché è proprio un mondo strano là fuori. Grazie. Grazie. Grazie.